che sta succedendo? mamma questo è Andy non è un po' suon ma non è un po' suon ma no non è un po' la vita mia no è la fine non è la fine oi c'è il po' Volevo fare una cosa psicosa! Volevo fare una cosa! Come si chiudica? Ma come si chiudica? No, è proprio una foto di un tempo! Mi sentiamo a trattarmi! Mi sentiamo a trattarmi! Ci mangi solo tu! Mi sentiamo a trattarmi! Non è una macchina non parla! Non ti pulire la cosa! Vieni qua! E poi mi è stato pulita! Mi sentiamo a trattarmi! Mi sentiamo a trattarmi! Sto facendo il filmato!